A Neki Palloni si affrontano Real Forte Querceta e Gaborrano, valida per la 29esima giornata del Gironè di Serie D. I neri azzurri hanno totalizzato solo 4 punti nell'ultimo 6 e si trovano sedicesimi a 4 punti dalla zona salvezza. Mister Brachia ancora senza Capitano Biagini e Gianotti lascia in panchina Canalini Materazzi e si schiera con i 3-5-2. Anche gli ospiti hanno bisogno di 3 punti per rimanere in corsa per la promozione, visto che si trovano a 6 punti di distanza dalla zona playoff e a 9 dalla vetta, occupata dalla coppia Seravezza-Chivivorgo. Marco Cacitti senza l'ex Mastino e Berardi lascia ancora in panchina Lamioni e Ferrante, debutto per l'ex Viareggio Scogna Miglio. All'andata finì 0-0, arbitra il signor Crescenti di Trapani. Dopo un inizio tutt'altro che emozionante, gli ospiti passano in vantaggio con la prima verazione interessante. Angolo battuto da Cerretelli, si crea una mischia in aria dalla quale Placido è più lesso a colpire il rete e a battere un non perfetto Puccini. Due minuti dopo, Puccini è bravo a evitare il raddoppio sul tiro di Jukic. Al ventitresimo rischia l'autogol Bruni. Il suo intervento per poco non sorprende Salo Alagio. Dalla rispinta dell'angolo si addormenta a difesa del forte, ma Gomez Depina spreca l'occasione sbagliando il passaggio finale. Alla mezz'ora, prima vera azione dei Nerazzurri, con Bertoni e Vignali protagonisti, ma il tiro del numero 10 viene salvato sulla linea da Scognamiglio. Tre minuti dopo, Vignali viene fermato con un fallo al limite dell'aria. Per l'arbitro è punizione, sulla quale va Guidi, la cui esecuzione termina di pochissimo al lato del palo. Sul finire il primo tempo rischia Grosso Fenati con un brutto intervento ai danni di Costanzo, ma il signor Crescenti lo grazia ammonendolo. Con il commento di Alessandro Ferrari e le riprese montaggio di Antonio Del Chiaro per palla al centro, si passa al secondo tempo. La seconda frazione prosegue sulla falsa riga del primo, con ritmi molto blandi. Nei primi minuti, unica nota da segnalare rischioso al retropassaggio con la quale Puccini rischia sul pressing di Jukic. Brachi prova sui riscuotere i suoi, inserendo Canalini e Materazzi, per Di Leo e Maffini. Al diciottesimo, vicinissimo al pareggio il forte, con Salo Alagio costretto agli straordinari sul tiro insidioso di Vignali. Un minuto dopo, clamoroso errore di Falchini, che sulla respinta del tiro di Fenati, del portiere ospite, da pochi passi manda alto. Si fa rivedere in avanti il Gavorano alla mezz'ora, con l'azione in solitaria di Gomez da Pina, il cui tiro termina di poco a lato. Un minuto dopo, altra occasione per i nerazzurri, ma Visibelli, da buona posizione, non riesce a colpire sull'ottimo cross di Guidi. Al trentaduesimo, Amico non colpisce bene, ma la sua esecuzione per poco non sorprende Salvalaggio. Al trentesettesimo, chiedono un rigore ai padroni di casa sull'intervento ai danni di Vignali, ma il signor Crescenti non ravvisa in regolarità. Due minuti dopo, arriva il meritato pareggio del forte con il tiro cross di Fenati, primo gol con la maglia nera azzurra per l'ex Massese. La partita si chiude con il doppio giallo proprio dell'autore del gol, Fenati. Pareggio che non serve a nessuno con il forte che rimane a quattro punti dalla zona salvezza.